La nuova edizione del progetto Gutenberg Fiera del Libro sarà sicuramente interessante per dimensioni e qualità. Quest'anno, come da tradizione, l'evento avrà il suo baricentro a Catanzaro, per articolarsi però in tutta la regione, con il coinvolgimento di ben 62 istituti di ogni ordine e grado. Dal 23 al 31 maggio e nei primi giorni di giugno, queste le date dell'evento, la 14esima edizione del Gutenberg, che avrà come tema Demoni e meraviglie, ospiterà autorevoli relatori e rappresentanti del mondo della cultura e della scienza di una certa levatura, confermando il successo dell'iniziativa ormai anche a livello nazionale. Il pregio credo che sia questo, in particolare nell'anno 2016, tocchiamo tante scuole di montagna della periferia, è decisivo questo per la Calambria, perché ci sono i nostri paesi che si spopolano, che perdono l'identità e anche momenti di incontro dedicati al libro, alla lettura, alle idee, servono a dare a questa realtà una spinta, motivazioni. Le scuole sono effervescenti, c'è una grande attesa, ma penso a Santa Severina, penso a San Giorgio Morgetto, penso a Petrona, il cuore è anche Catanzaro, dove si terrà una quantità notevole di incontri con personaggi che vengono da tutta Italia, che vengono anche dall'estero.